cari spettatori buonasera ben trovati a questo appuntamento con il tg question time come ogni venerdì siamo ospiti del sindaco di novara alessandro cannelli buonasera buonasera siamo a parlare nuovamente di silicon box questo insediamento produttivo che arriverà a novara nei prossimi mesi proprio la scorsa settimana praticamente in diretta c'è stata la firma del dell'accordo a roma ma oggi lei ci può svelare qualche dettaglio in più a partire dal luogo dove ci sarà questo insediamento industriale certamente sì è un risultato eccezionale per la nostra città e spiego il motivo questa azienda la volevano localizzare nei propri territori diverse regioni non soltanto italiane ma anche europee perché è un'azienda che produce microchip di ultima generazione estremamente importanti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di tutte le nuove tecnologie ma anche dei processi di produzione delle aziende piccole e medie del nostro del nostro paese è un'azienda che avrà un indotto importantissimo 1600 occupati dei quali molti sono ingegneri informatici tecnici quindi occupazione di altra qualità è un'azienda che avrà la possibilità di tessere relazioni con grandi centri di ricerca con università quindi portare competenze formazione di alto livello sul nostro territorio cambia con l'arrivo di silicon box che avrà localizzata ad agognate appena sotto lo stabilimento di amazon su 600 mila metri quadri di terreno che sono già stati acquistati dagli investitori è un'azienda che porterà alla crescita e allo sviluppo con un nuovo paradigma della nostra città quindi non più solamente logistica non più soltanto riqualificazioni urbanistiche e comunque sia anche sviluppo dell'università che sarà aiutato ovviamente dall'arrivo di questa azienda ma a manifattura di alta di alta qualità in più loro vogliono costituire un ecosistema nella nostra città farla diventare una sorta di silicon valle italiana ricordiamo che qua c'è già mem che sta lavorando sui dischi di silicio molto bene si sta anche essa ampliando e quindi ci sono delle prospettive straordinarie per lo sviluppo dei nostri territori anche perché molto probabilmente ci sarà proprio tutto un indotto che arriverà in questa zona e nuove aziende in più noi nel pacchetto dell'accordo abbiamo messo dentro anche la riqualificazione del retro stazione perché coloro i quali andranno a lavorare lì ad agognate potranno magari avere appartamenti case nel retro della stazione salire sul treno in sette minuti andare a lavorare quindi è diciamo così una rivoluzione epocale per la nostra per la nostra città noi siamo molto soddisfatti di questo e ovviamente adesso c'è da lavorare perché c'è un anno di cosiddetto permitting perché sarà un'operazione gestita direttamente dal ministero perché è un'operazione di interesse strategico nazionale qui non stiamo parlando di una cosa importante per novara o per il piemonte soltanto è importante per tutto il paese quindi verrà gestita direttamente dal ministero nella fase autorizzativa dopodiché circa un anno e mezzo di lavoro di costruzione della fabbrica e del parco tecnologico scientifico dopo di che si potrà dare addio alla produzione praticamente la stazione di agognate che era appena stata inaugurata dovrà già essere probabilmente ingrandita per riuscire ad accogliere no basta aumentare il numero di vagoni aumentiamo il numero di vagoni e avremo effettivamente un apporto notevole cioè cambierà il volto sì di quella di quell'area ma come diceva lei proseguirà tutto quella riqualificazione di santa gabbio che è in atto da tempo che è già iniziata con l'intervento sull'ex molino tacchini dove a breve si insedierà il quartiere generale di alexander mcqueen che è una nota azienda nel settore della moda dove sono già stati riqualificati gli ex magazzini cariplo con della logistica che ovviamente impatta sulla parte diciamo di santa gabbio alta ma non sulle abitazioni che sono lì intorno la zona più esterna la zona più esterna che vicino al boschetto insomma tutta una serie di attività in questi anni abbiamo messo in campo ma questo veramente il fiore all'occhiello della politica di attrazione degli investimenti della nostra città non più soltanto logistica che rimane comunque importante ma soprattutto manifattura d'alta qualità inoltre questa operazione ci darà la possibilità di fare una riflessione sull'impostazione del nuovo piano regolatore che abbiamo appena iniziato ad immaginare e a costruire e anche su alcune operazioni in corso come quella di Pernate dove a mio avviso adesso ci sarà la necessità di fare una seria riflessione per ridurre l'investimento su Pernate in modo tale anche da dare incontro alle esigenze dei cittadini di coloro i quali ovviamente ritengono quel posto poco idoneo a fare logistica io non lo ritengo ritengo che essendo vicino al casello autostradale però bisogna tenere in considerazione anche le esigenze dei cittadini che sono preoccupati magari da un forte impatto dell'arrivo della logistica lì quindi ridurla e asciugarla sarà un'operazione che tenteremo di fare. Come dicevano i romani medio stat virtus quindi magari ridimensionare un attimino e non rinunciare. C'è un altro argomento è prettamente politico vale a dire la nomina del suo vice sindaco è Silvana Moscatelli però è stato annunciato per un periodo di transizione ma infatti non c'è niente di politico in questa nomina nel senso si è dimessa l'assessore Chiarelli che era anche vice sindaco perché ha avuto l'incarico assessorile in regione essendosi dimessa e non avendo ancora noi terminato la verifica e diciamo così le interlocuzioni con gli alleati per il rimpasto e quindi per la sua sostituzione per l'individuazione del nuovo vice sindaco e quant'altro io sono costretto temporaneamente per i giorni da qui a quando si finirà la verifica ad avere comunque un vice sindaco perché il comune non può rimanere senza vice sindaco quindi nel momento in cui sarà individuato il vice sindaco nuovo che sarà fra qualche giorno una settimana, dieci giorni verrà data lui la delega assessorile con la funzione di vice sindaco nel frattempo ho voluto incaricare Silvana Moscatelli perché è la più esperta da un punto di vista amministrativo era già stata e quindi nel frattempo avrà lei queste funzioni ma non c'è niente di politico è più un fatto tecnico ma possiamo rassicurare l'opposizione per le tempistiche che sembrano un po' lunghe per decidere i nuovi assessori ma non sono lunghe ci sono dissapori nella maggioranza assolutamente no, non abbiamo ancora iniziato a parlare come fanno esserci dissapori se non abbiamo ancora iniziato a parlare? quindi dovete ancora decidere ma certamente sì cambiamo argomento andiamo a parlare dei lavori avevamo accennato già la scorsa settimana per quanto riguarda quelli legati al PNRR e non lavori che stanno andando avanti per quanto riguarda l'ex macello che è strettamente legato poi a Casa Bossi Casa Bossi sembra un po' più statica, più ferma è vero o si sta lavorando? no, si sta lavorando anche su Casa Bossi Casa Bossi è un immobile culturale è una sorta di monumento culturale della nostra città e quindi ha dei tempi necessariamente più lunghi nella sua progettazione perché su Casa Bossi c'è un interesse culturale fortissimo anche da parte della sovrintendenza quindi il progetto per la riqualificazione di Casa Bossi deve tener conto di tutte le scelte relative al restauro e alla sua riqualificazione complessiva cosa che è meno necessaria sull'ex macello che invece si trasformerà in un parco commerciale con negozi, con un supermercato, anche con uffici, con il verde, con i parcheggi sotterranei lì è più veloce la cosa, quindi sono iniziati già i lavori di demolizione sull'ex macello mentre su Casa Bossi la sovrintendenza ha tempo di valutare la progettazione e quant'altro che è in atto, che è in corso, hanno già fatto delle bonifiche, hanno già fatto dei saggi, hanno già fatto le stratigrafie sono tutte quelle cose che non si vedono in realtà sono tutte quelle cose che non si vedono e che entro la fine dell'anno la sovrintendenza darà il parere definitivo dopodiché si inizierà a fare il restauro e i lavori veri e propri quindi non c'è una sospensione, un ritardo sono purtroppo i tempi lunghi della burocrazia del nostro paese che prevede, in parte anche giustamente, che la sovrintendenza abbia una forte attenzione su quel bene perché è un bene di forte interesse culturale cosa che non è dall'altra parte, quindi dall'altra parte si va più veloci più veloci altro bene di interesse per i cittadini novaresi perché attualmente in stato di abbandono e quindi effettivamente poco gradevole anche da vedere è l'ex centro sociale per cui si è andati alla gara d'appalto sì, noi avevamo già un progetto per la riqualificazione del centro sociale però era un partenariato pubblico privato quando l'università ci ha detto chi era interessato a partecipare a un bando ministeriale per creare un nuovo campus universitario noi abbiamo deciso di abbandonare il primo progetto e dare tutto in mano all'università perché secondo noi era di maggior interesse pubblico andare in quella direzione tant'è che l'università ha ottenuto il finanziamento adesso stanno facendo la progettazione definitiva, mi sembra che l'abbiano quasi terminata partirà il bando per l'affidamento dei lavori, dopodiché ci dovrà essere l'assegnazione entro novembre una volta che ci sarà l'assegnazione della ditta che dovrà fare i lavori partiranno poi i lavori ma è già tutto pronto da un punto di vista delle carte e soprattutto del finanziamento quindi anche il centro sociale è un obiettivo che abbiamo raggiunto dal punto di vista della sua riqualificazione praticamente indirettamente però è stato raggiunto sì, però grazie a noi si va in quella direzione lì, grazie a noi alla provincia perché tra l'altro il centro sociale è metà proprietà del comune e metà della provincia quindi verrà completamente riqualificato con alloggi anche per gli studenti 177 mi sembra posti letto per studenti più la piscina che riaprirà a disposizione di tutta la cittadinanza più ci sarà dell'impiantistica sportiva a disposizione della cittadinanza verde pubblico, verrà riqualificata completamente quella zona ora con soldi del ministero non indebitando i cittadini novaresi quindi questo è un altro ottimo punto di vista e di osservazione io la ringrazio per questa intervista l'aspetto, anzi è lei che aspetta me perché sono io a venire nel suo ufficio venerdì prossimo sempre alle 20.15 buonasera a tutti buonasera a tutti voi